Hey Gruppo, faccio un live oggi dove non vi faccio vedere la mia faccia, ma vi faccio vedere un orrore dentale. Io come sapete ogni giorno ricevo un sacco di radiografie da paesi europei, tengo a sottolineare questo, non dall'Italia, queste non sono lastre che mi sono arrivate dall'Italia. E oggi faccio un live dove vi faccio vedere una lastra che non mi è arrivata dall'Italia di quello che è il risultato del conflitto di interessi che esiste nella sanità, ovvero chi decide ciò di cui tu hai bisogno, ovvero colui che viene chiamato medico, e anche la stessa persona che poi prende i soldi per le cure e le terapie che eseguirà. Questo tipo di rapporto che c'è tra medico e paziente rischia di innescare delle volte due tipi di problemi. Uno, ti viene detto che devi fare più di quello che in realtà devi fare, o due, ti viene detto che devi fare meno di quello che in realtà dovresti fare. In un caso vai incontro all'overtreatment che viene anche punito per legge, insomma non puoi se vai in una clinica subire un intervento chirurgico per un qualcosa che non c'è. Ma se vai in una clinica e chi vede le lastre, vede i problemi e non ti dice tutto quello che va fatto o peggio ti preventiva dei trattamenti chirurgici che tendono a sottostimare il problema, c'è il rischio che la malattia peggiora, ok? E anche quella è cattiva sanità. Questo video premetto che tutti possiamo commettere degli errori, tutti possiamo commettere degli errori di valutazione, quello che però ci dovrebbe essere un organo, a mio parere lo dico danni, di controllo che verifica quello che i medici fanno, prescrivono, o i dentisti prescrivono le terapie che eseguono e proteggere i pazienti, non la categoria ma i pazienti perché chi sta là a fare associazionismo sta anche a fare associazionismo prima di tutto per i malati, difenderli magari da dei medici che sottostimano le malattie e quindi tendono a vendere, non prescrivere trattamenti, ma vendono trattamenti, impianti dentali, ponti, perché magari a fine mese devono arrivare a pagare gli stipendi, l'Empam, arrivare a pagare magari le casse previdenziali e soprattutto lo Stato mafioso che va a lucrare due volte sulla malattia, non sulla salute, sulla malattia dei cittadini che pagano le tasse. Questo è il risultato di uno schema illogico di sanità privata, quella che vedete qua a schermo è la lastra di un paziente che mi è stata inviata, io ho fatto un preventivo, un preventivo, una quotazione così a distanza perché sapete che i preventivi non è che basta una lastra per vedere, è come se al telefono per esempio io parlo con un elettroauto dall'Australia, uno mi dice più o meno alla macchina che problema c'è e io a distanza dalla Moldavia gli dico guarda il problema è questo. No, bisogna fare diagnosi, raccogliere esami diagnostici, parlare col paziente, incrociare quelle che sono le aspettative del paziente e poi solo dopo si può fare un preventivo. Ma dalla lastra posso confrontare quello che è il preventivo che è stato fatto qua sulla sinistra a questo paziente, ho oscurato i nomi e il cognome del paziente, anche lo studio dentistico perché lo scopo non è andare a screditare uno o più medici, assolutamente, ci sono veramente tanti colleghi bravi che fanno in maniera corretta le diagnosi in Europa ogni giorno, ma ci sono anche dei pazienti che purtroppo finiscono sotto l'esame, la lente di ingrandimento di qualche medico che sottostima il problema. Questo è un classico caso di paziente a cui è stato fatto un preventivo di 7.562 euro sulla sinistra, vedete la lista degli interventi e sulla destra io ho fatto esattamente questo tipo di preventivo. Questo è un motivo per cui noi vi chiediamo sempre di fare una radiografia panoramica per avere un'idea di quello che va fatto. Non sempre chi vi visita vi fa un piano di terapia che comprende esattamente tutto quello che va fatto. 7.562 euro, il paziente si è spaventato qua perché avrà detto «Caspita, sono tanti soldi». Sì, questo è un primo problema, da noi per esempio spenderebbe un terzo, praticamente 2.586 con gli stessi tipi di trattamenti. Il problema più grave è che dentro non sono state messe tutte le terapie. Se io vi faccio vedere ora la lastra, ok, provo a uscire dal tutto schermo, così ho per esempio il mouse, qua il paziente ha un ponte. Io la prima cosa che faccio quando guardo una lastra è capire la logica, cioè guardare la foresta, io non mi soffermo a guardare l'albero, io guardo l'insieme, la bocca nell'insieme, vado a cercare di capire quello che è successo in passato e poi vado a capire come far uscire il paziente dalla spirale del dentista. Significa che il paziente non deve rimanere sul libro paga del dentista, del medico, far finta di risolvere un problema e poi si riaprono altre buche da altre parti e il paziente continua a venire, mi riempie la sala d'attesa, mi porta ai cugini, familiari, parenti, io ho sempre la sala d'attesa piena e sembra che lavoro tanto, ok, perché molti corsi di marketing per odontoiatria insegnano anche questo, una odontoiatria deviata. Io quello che vedo è un paziente che intanto ha perso dei denti, sono stati fatti dei ponti, destra e sinistra in ceramica, non sono stati rimessi qua in basso a sinistra un dente, la bocca è iniziata a collassare, infatti si vede anche qua che ci sono dei denti che si sono inclinati, per esempio se io vado a vedere questa zona, qui ci sono i denti qua sotto che hanno un asse inclinato, questo perché? Perché il paziente non è stato curato in maniera risolutiva, il paziente avrebbe dovuto avere uno stop qua, sarebbero dovute essere messe delle corone sopra, qua ha perso un premolare che non è stato messo, i denti sono venuti in avanti e si sono inclinati, in più ha dei denti qua che dovevano essere incapsulati, l'80% del dente ricostruito non è stato incapsulato, stessa cosa su questo, le devitalizzazioni sono state fatte male, sono corte, qua sono rimasti i batteri e si vede qua un alone scuro, questo è un granuloma, come pure c'è un granuloma qua sotto, questi sono denti che vanno estratti. Perché il paziente ora deve estrarre questi denti? terapia mal eseguita, ok? Questo è un paziente che non è stato curato, oppure se la devitalizzazione era stata fatta male, il non aver fatto le capsule sopra questi denti ha portato infiltrazioni qua delle otturazioni, verosimilmente, i batteri sono rientrati dentro e ora non essendo stato messo il sigillo delle capsule si ritrova in questa situazione, oppure dall'inizio non sono state fatte bene, sono stati lasciati i batteri, insomma questo è malpractice. Qua in più non è stato messo un impianto dentale, qua non è stato messo un impianto dentale, sono stati fatti i ponti in un paziente che è soggetto a parodontite, quella che un tempo si chiamava piorrea. Il paziente che gli vengono fatti i ponti che ha la piorrea poi va incontro a perdita dell'osso. Quindi ora da togliere anche questa radice, questa radice, questa radice, si vede anche il riassorbimento attorno all'osso di questa radice, dente qua che si vede molto il nervo, qua c'è un riversamento attorno alla radice, questo è un dente che deve essere devitalizzato. Su, per fatto ceramiche, ponti, anche questa radice qua va tolta, vedete l'osso che sta a meno della metà della radice, l'aver fatto ponti senza andare sotto a stabilizzare la masticazione, infatti vedete che qua è stata fatta invece che le capsule otturazione, otturazione, qua non c'è denti, la bocca davanti collassa perché dietro sotto mancano i settori masticatori fatti correttamente. A un certo punto sovraccarica la dentatura anteriore, si innesca il bruxismo, qua metà dei denti che dovevano essere lunghi fino a qua, li ha persi. Adesso per poter rimettere la dentatura bisogna fare il percorso inverso, togliere le radici che vanno tolte, ricostruiti i seni macellari perché qua non c'è più osso, qua pure non c'è più osso, il paziente ha perso osso non per la malattia parodontale ma perché la malattia parodontale non è stata fermata, un'altra volta malpractice, in più non è stata curata la bocca nell'insieme ma sono stati venduti ponti al paziente in passato, senza bloccare, vedere quello che era il problema biomeccanico della bocca. Questa situazione qua si sarebbe potuta evitare? Sì, si sarebbe potuta evitare se in passato sarebbero stati fatti invece che ponti in pianti dentali nei posti giusti dappertutto dove sarebbero dovuti fare. Avrebbe meno esiti di parodontite, dovrebbe togliere una, due radici meno, tre, quattro, cinque, sei radici meno, quindi sei denti in meno. Questo perché? Probabilmente perché nello stato dove vive questa persona il dentista non è gratis. Gli impianti dentali non sono gratis ma si sarebbe dovuto mettere mano al portafoglio. In stati privati dove la sanità è privata, come vedete, chi ha deciso ciò di cui aveva bisogno che era la stessa persona che ha guadagnato su questi trattamenti, ha venduto dei trattamenti, ha omesso di vendere alcuni trattamenti. Ora è andato a fare di nuovo la visita, cosa gli avranno preventivato? Tutto quanto? No, non gli hanno preventivato tutto quanto, gli hanno preventivato di togliere solo il 26. Il 26 è solo questo dente qua distrutto, ma sta tenendo in bocca, togliendo questo dente, un ponte che prevedono di tagliare qua, ma un ponte non si taglia, un ponte se si taglia va rifatto. Un paziente con piorrea ha bisogno di togliere i ponti e fare impianti singoli, qua invece non lo hanno previsto. Hanno previsto solamente di devitalizzare un dente, quindi spigliamo soldi devitalizzando solo questo dente, facendo una capsulina, scusate, su questo dente, sul 12, devitalizzazione del 12. Fatemi vedere bene il preventivo. Corona, ritrattamento monocanalare, cioè l'unico dente che ha un trattamento canalare che sta bene, lo vogliono ritrattare. Sta bene questo, non ha bisogno di essere ritrattato, non ha granulomi sulla radice. Qua, che invece si vede una sofferenza della radice, vediamo il 15, il 15 no, non lo devitalizzano, ok? Mentre non vedono che va tolto anche questo e anche questo dente, e che va tolto anche questo dente. Non vedono che va ricostruito l'osso, il seno macellare qua va ricostruito, ma qua non c'è ombra, non c'è traccia della ricostruzione del seno macellare, qua non c'è osso. Se non gli metti l'osso, qua l'impianto col cavolo che ce lo metti, come pure qua non puoi mettere l'impianto. Ma su questo lato, questo ponte, per loro è tutto a posto. Da noi Moldavia qua non è tutto a posto, qua bisogna smontare questo ponte, devitalizzare. Se questo fosse mio figlio, mia moglie, di corsa, gli toglierei questo ponte, andrei a fare i denti tutti singoli, separati. Togliendoli dovrei fare capsula qua, capsula qua, capsula qua, ridare l'estetica con faccette nella parte anteriore, andare a incapsulare separatamente, impianto qua, impianto qua, impianto qua. Qui sotto questo togliere, togliere, impianto, impianto. Avranno preventivato questo sotto, sotto hanno preventivato impianto 36-37, quindi qua e qua dove ho preventivato io. Ma ancora una volta dopo tutti questi anni qua si dimenticano che da questo lato va messo un impianto, cioè la bocca mastica a destra e a sinistra, non posso mettere impianti a sinistra e non metterli a destra, ok? In altri stati qua ti tolgono la licenza, cioè se tu fai un preventivo del genere a un paziente che ha ben problemi più gravi, non capisco la logica, o perché non li vedi e allora chi controlla dovrebbe dirti, guarda che qua stanno finendo sotto di te pazienti che hanno magari metastasi ma tu non le vedi, ok? O peggio fai finta di non vederle, nel senso che stai vendendo i trattamenti che a te convengono per evitare che il paziente scappa. Ma se tu fai dei preventivi sottostimati perché hai paura di non vendere il trattamento, allora stai facendo una logica commerciale che non fa l'interesse del medico, scusate, del paziente, ma fa l'interesse dell'azienda per la quale lavori. Ok, è questa, ho verificato che è un'azienda, è un franchising questo, dove vengono vendute i trattamenti, alcuni trattamenti non viene curata la bocca in maniera complessiva ma in maniera parziale. Il paziente continua a essere nella spirale del dentista, spende 7 mila euro oggi, domani ne dovrà spendere altri 7 mila. Questo è il motivo per cui magari delle volte ci dite che quando il paziente viene qua e noi facciamo gli esami diagnostici, l'attacca 3D, vediamo il sanguinamento gengivale, dobbiamo vedere se c'è il movimento dei denti. Io dalla sola panoramica, dalla sola attacca non vedo se questi denti si muovono, non so se ha caldo al freddo a dolore o se batto su questo a dolore, non vedo se c'è sanguinamento gengivale. Le gengive qua non si vedono, devo fare degli esami, vedo alcune cose, però già queste alcune cose che io vedo sono veramente il preventivo che gli hanno fatto è veramente sottostimato. Sottostimato è il paziente pensa di aver risolto ma non sta risolvendo completamente la bocca perché non è stata vista qua alla foresta ma si sono concentrati sull'albero oppure per esempio qua c'è il granulomo che dobbiamo curare qua questo dente. La verità è che la bocca va vista nel complesso. Noi qua al Policlinico e Moldavia, la realtà che abbiamo creato, abbiamo un approccio globale perché la bocca è un ambiente dinamico dove ci sono, se non vengono risolti in maniera completa le dinamiche di sostegno della bocca posteriore, studio dei materiali accoppiati sopra e sotto che siano correttamente distribuiti carichi, la bocca collassa, continua ad avere problemi. La bocca è un insieme anche dal punto di vista batteriologico. Io se vado a togliere dei denti come per esempio questi qua in alta destra ma mantengo questo ponte col paziente che mantiene questa radice in parodontite, continua ad avere qua delle tane come pure questa radice qui sotto che c'è una tasca che arriva a meno metà della radice, delle tane batteriche. Il paziente continua ad avere la saliva acida che è dovuta all'acido lattico prodotto dai batteri che causano poi la reazione del sistema immunitario, della parodontite e continua a perdere i denti. Questo è il motivo per cui molti pazienti delle volte vengono al policlinico e hanno un preventivo che non è quello che gli è stato fatto in Italia, ma è più alto, magari che neanche quella quotazione che gli abbiamo fatto in distanza. Vediamo che la situazione è più grave quando vengono qua. Allora tutti i medici che lavorano qua con me hanno l'obbligo morale di fare un preventivo completo. Poi se il paziente non se lo può permettere, quello è un altro discorso, intanto se ne va in Italia con un piano di cura risolutivo. Se il paziente non può iniziare le cure, ma non può iniziare le cure che noi gli abbiamo preventivato, noi la prima cosa diciamo al paziente è aspetta. Quando ci avrai tutti i soldi, fai però queste cure. Devono essere delle cure propedeutiche, quelle che si fanno, quello che è il risultato finale di mantenimento stabile negli anni e duraturo di una bocca che non collassa, che non ha più problemi di acidità, di parodontite, non ha un problema per esempio di dover tornare dal dentista e smontare cose fatte in passato. dovrebbe essere la fine, la parola fine ha la spirale del paziente che rimane sempre sul libro paga dal dentista. Questo perché in alcuni stati c'è la sanità privata dove si innesca il conflitto di interessi tra ciò che tu hai bisogno e chi si intasca i soldi per le cose di cui tu hai bisogno. Come si rompe? Veniamo alla soluzione. Come si rompe questa spirale? Noi qua in Moldavia abbiamo fatto un prototipo che serve a far vedere che è possibile in maniera detassata fare dei trattamenti più economici. L'ideale è arrivare a tassazione zero. Significa che i medici, i dentisti non devono essere tassati dallo Stato. I medici dovrebbero essere pagati dallo Stato per il lavoro che fanno di utilità sociale. Uno deve fare il medico per vocazione, non per professione. È come fare il politico, io dico sempre. Tu immagina un politico che lo fa per professione. È strano. Ho un parroco, un prete che fa il prete, il parroco per professione. No, lo fai per vocazione. Qua stai facendo diagnosi, devi curare le persone, non lo puoi fare perché ti viene il conto salata a fine mese dell'empamo oppure della cartella esattoriale che devi andare a pagare. È onorario, allora devi cercare o con overtreatment o evitare di far scappare i pazienti facendo trattamenti invece parziali di modo da continuare a avere clienti invece che pazienti. Questo era un esempio che io vi vorrei vedere, lampante di quello che è l'effetto della sanità privata che può avere sulla salute dei malati. Questo è un piccolo esempio in ambito dontoiatrico. Voi pensate ogni giorno a chi sta facendo diagnosi per cose ben più gravi, ok? Medici, dentisti pagati dallo Stato. Se sei d'accordo con me, dentisti e medici esentasse 5 stelle per tutti nel senso di qualità, non 5 stelle è un movimento politico ma parlo di qualità. Trattamenti di qualità, diagnosi di qualità, pianificazione dei trattamenti di qualità, materiali migliori esistenti sul commercio, dati pagati con le tasse dei cittadini, dati e medici che devono fare la miglior diagnosi priva di conflitto di interesse. Io vi faccio un saluto qua da Chisina, un dottor Palmas, dentista sardo in Moldavia, cervelle in fuga, fortunatamente scappato dallo Stato italiano, dove sto cercando di innescare il movimento di persone sul web che la pensano come me in ambito di salute. Un saluto.